Cln numero 18 11 novembre 2011. Cercherò di fare rapidamente questo intervento di oggi, una carrellata fotografica per le solite segnalazioni di carattere civico per la nostra comunità. L'immagine di sfondo che rimarrà ad accompagnare questo intervento è questa delle biciclette lasciate per fortuna in una giornata di sole davanti alla stazione, ma questa è soltanto una piccola parte. Il motivo per cui voglio segnalarlo è semplicemente per chiedere un intervento a protezione di coloro che utilizzano la bicicletta, perché nelle giornate di pioggia e di cattive condizioni meteorologiche queste biciclette sono esposte al deterioramento. Quindi una pensilina con quelle rastragliere per poterle parcheggiare in maniera decente darebbero intanto un aspetto più decoroso come biglietto da visita a chi scende dal treno provenendo da Pavia o da Milano per arrivare a Locate, magari dando priorità al parcheggio per la sua associazione per l'occupazione degli spazi commerciali. Come cittadini dobbiamo sentirci protagonisti del fatto di partecipare a rendere migliore la vivibilità della comunità dove noi viviamo. Forse sarà un'utopia minimalista, ma io insisto su queste piccole cose. Ora cercherò di fare questa carrellata velocemente sulle cose che mi hanno colpito in questi giorni e che voglio proporre all'attenzione di chi passa sul sito di Locati Viva in maniera molto rapida partendo da quel cartello all'ingresso del sottopassaggio provenendo da Via Milano al di là della ferrovia che nelle notti scorse circa una quindicina di giorni fa vi è stato un incidente, non si capisce bene come le dinamiche eccetera, perlomeno io ho raccolto alcune cose, ma rimango all'immagine dove quell'incidente ha provocato una serie di danni alle strutture eccetera, compreso l'abbattimento di questo lampione che è andato ad appoggiarsi lì sul cartello segnaletico d'ingresso al sottopasso. Speriamo che non dobbiamo vedere questa cosa lasciata in questa situazione per mesi, anche perché possiamo vedere che è tenuto insieme, appoggiato con questo fil di ferro, è il che rende la cosa abbastanza pericolosa, perché se si usa l'argomento dobbiamo aspettare i risultati delle perizie e dei sopralluoghi per l'assicurazione, a me sembra che è prioritaria la sicurezza, garantire la sicurezza dei cittadini che si trovano a transitare da questo posto dove si può vedere in che condizione è stato lasciato questo palo dei fari dell'illuminazione in quella zona. Mi ha colpito poi questo fatto, sosta autobus, rispetto alla situazione dove è stato garantito il parcheggio per la salita e la discesa degli utenti degli autobus, che al momento nessuna linea ferma in questa zona, ma non si capisce se quel cartello fa il divieto di sorta agli autobus o alle automobili, è poco chiaro, ma si capisce se si può capire a che cosa serve. Però qualche superficialità nel collocare la segnaletica verticale forse merita appunto di non passare del tutto inosservata. Quello che invece si può vedere qui, perché mi sa che il titolo che darò a questo intervento del CLM numero 18 per locativia.it è Pali e telecamere. E dopo spiego perché delle telecamere. Pali appunto della segnaletica che sbadate, distrazione o volontarietà o meno, insomma, quando qualche cosa accade di questo genere, bisognerebbe andare a porvi a rimedio con una certa urgenza, non lasciare che questo Paolo provochi qualche altra situazione accidentale. Quindi uno è dare la precedenza, l'altro è il divieto di accesso. Sta di fatto che all'ingresso di quel parcheggio, dove tra l'altro sono ancora decine di posti liberi e si potrebbe fare in modo di evitare le soste selvagge sparse perlocate da parte di coloro che vengono allocate per prendere il treno e quindi coloro che lasciano alla parte di via Roma le automobili in sosta selvaggia, anche perché approfittando il fatto che non vi è nessuna segnaletica che dice che in quel posto è il via di vieto di sosta, però questo sta agli addetti ai lavori porvi il rimedio. E Locativiva svolge questa sua funzione minimalista di mettere in evidenza le cose che non... Qui si dice attenzione area video sorvegliata. Ecco, si è potuto notare che sono state spostate le telecamere di sicurezza poste all'ingresso e all'uscita del sottopasso ciclopedonale di via per andare alla fontana. Chi le ha spostate probabilmente qualche motivo l'avrà avuto o è semplicemente un'azione vandalistica o vandalica di qualche ragazzotto? Beh, non stanno indagare fare i poliziotti o gli sceriffi, però chi di competenza potrebbe andare a vedere per quale motivo questa telecamera è stata rivolta verso il cielo piuttosto che continuare a fare servizio. E poi queste telecamere da chi sono guardate? Oramai se ne vedono tanti di cartelli in giro per le perlocate che ci visano con area video sorvegliata, ma video sorvegliata da chi? Chi controlla? Perché se c'è qualcuno che controlla dovrebbe esserci anche accorto che quelle telecamere sono state spostate, altrimenti o sono spette o sono state disattivate e per riorientarle sull'obiettivo da tutelare, mi sembra sia un dovere da parte di chi ha scelto di adottare questo tipo di servizio, pagato dai cittadini naturalmente, ma in questo modo viene vanificato e quindi sprecato. Quindi sia la telecamera che sta al di là del sottopasso ciclopedonale sul viale che porta al santuario, sia questa che si può vedere che sta invece al di qua, praticamente dietro il caricello della piazzaforma ecologica, sono state spostate, quella dalla parte di là è stata spostata verso il cielo, questa è stata leggermente spostata in maniera che non riprenda l'ingresso del passaggio ciclopedonale e vorrei essere maligno per dire non è che serve a qualcuno per poter passare inosservato magari con qualche autovettura piccola e in maniera che appunto la telecamera non possa riprendere il numero di targa per essere identificato, perché se si può vedere come si può vedere in questo panettone all'ingresso è stato spostato e quindi è ben possibile che ci possa passare a un'autovettura piccolina e la telecamera che sta lì in fondo è stata direzionata verso l'alto in maniera che qualcuno può farsi beffa di questo tipo di scelte. E per parlare di sosta selvaggia appunto mi riferivo proprio a questo, sulla via Roma, questo spazio un po' prima dello spazio più grande dove abbiamo visto tutte le biciclette, vengono parcheggiate sistematicamente una certa quantità di automobili che sarebbe utile invece impedire questo spettacolo di sosta selvaggia, ricordando appunto che nel parcheggio al di là della ferrovia ci sono ancora decine di posti liberi e occorre fare qualche metro in più probabilmente per andare a parcheggiarsi in quel luogo. La comodità è vero, ci vuole farsi muovere in macchina fino nelle situazioni più incredibili e però rispetta anche di dover intervenire su queste questioni. Io mi limito semplicemente alla segnalazione, io ma non voglio parlare io, cioè Locateviva come promotore di questo sito di partecipazione civica attiva si vuole limitare a questo, quindi il discorso dell'occuparsi di una sistemazione migliore della bicicletta è nell'interesse di tutti, sia di coloro che la utilizzano, sia di coloro che invece vivono la città in maniera diversa e anche un rispetto per il decoro urbano non è una cosa da... qui non si capisce perché questo cartello ancora è coperto e che cosa dirà quel cartello? Soltanto una volta che sarà scoperto è piccola come cosa, non ci sarà l'inaugurazione in questo caso. Certo che appunto vedere un aspetto di degrado come biglietto da visita arrivando a Locate non è confortante e se anche appunto il sindaco continua a dire, oppure continua a dire che è prioritario l'impegno sull'associazionismo, sul sociale, che guarda un po' sociale associazionismo eccetera eccetera, ma a volte è molto discutibile questa attenzione privilegiata per alcuni e trascurata per altri. Basta e mi limito a questo, non voglio essere più polemico del solito. E il dire che per fare le manutenzioni ordinari appunto della rimessa a posto di un palo o di andare a rimettere a posto la telecamera spostata perché non ci sono soldi, anche questo insomma, ecco allora magari quando si spendono pensiamo che tutti i cittadini hanno il diritto di vedere comunque un'attenzione degna di questo nome, di non lasciare appunto a far alimentare quella teoria del vetro rotto che tutti i politici conoscono e spesso utilizzano quando apparano pubblicamente. Il vetro rotto, sai, quelle fabbriche di smesso dove un tempo si passava, si vedeva tutto abbandonato il vetro, uno tirava al sasso, poi l'altro che passava diceva perché non lo devo tirare anch'io, perché, perché, e poi vedevamo questi enormi caseggiati con le finestre e i vetri tutti rotti. È un vero peccato dover sottolineare continuamente questo tipo di cose. E anche lo spostare l'obiettivo su un altro punto che merita comunque attenzione, e qui in questo campo devono centrare i genitori, dei ragazzini che vanno in giro magari sabato notte o venerdì notte a fare vandalismo sui giochi nei parchetti per i bambini, anche questo. Però non è che uno può giustificare il disinteresse dell'altro. E se un comune e gli addetti ai lavori prestano attenzione a rispettare e diano l'esempio prima di tutto e prima di tutti, allora anche gli atti vandalici penso che si limiterebbero, si autolimiterebbero, proprio perché non vi è questo stimolo a dire ma chi se ne frega tanto quel palo è là così, beh guarda, guarda, vado lì, gli do un caccio, lo butto giù del tutto. Cioè non è che voglio fare il pretone che viene qui a fare le predicozze, ma sono le cose minime che ci insegnano a scuola da bambini e sono magari molte cose che si potranno ascoltare nel prossimo consiglio comunale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che come ogni anno, intorno al 20 novembre, si fanno svolgere. Quindi facciamo in modo che i bambini non facciano i ripetitori fotocopia di cose dove loro sono pieni di entusiasmo nel prepararsi a venire lì e dimostrare attenzione, sensibilità e ci credono in quello che portano all'attenzione dei grandi in quel giorno. Non deludeteli, perché quando escono da scuola e se guardano in giro, signori, forse siamo minimalisti, però come dice Gaber, non raccontate bambini le vostre, vabbè lasciamo perdere. Un saluto a tutti da Enzo Donofrio per il CLN numero 18 dell'11 novembre.